Benvenuti, nostri cari follower. Se un aggiornamento molto violento, dal modello numerico americano, poco fa, conferma e insiste ancora, su una tempesta di neve, che potrebbe essere la più forte della storia, la seconda settimana di marzo 2023, in particolare dopo 7 marzo, i modelli globali finora hanno tracciato un percorso per questa discesa polare, che è verso il bacino occidentale del mar Mediterraneo e verso l'Italia, è moderato i, gli ultimi 8 aggiornamenti del modello americano sono ancora costanti, e indicano una depressione polare di primo grado molto efficace che potrebbe colpire l'Italia nella seconda settimana di marzo, e potremmo assistere al ritorno del vero inverno. Il vero disastro è che questa depressione polare sarà molto gigantesca e potrebbe interessare tutti i paesi dell'Europa centrale e occidentale. E anche nei paesi dell'Africa nord-occidentale, se queste aspettative sono stabili, vi dico d'ora in poi, preparatevi ad entrare nella stagione invernale per un più forte 1, e potrebbe colpire tutte le regioni da nord a sud senza eccezioni, e rimanete sintonizzati per dettagli più accurati durante i prossimi video, poiché stiamo monitorando da vicino questa discesa il forte polare e i cambiamenti che causerà nel tempo in Italia e in Europa generalmente.